Don Giuseppe, inizia questa triplice iniziativa di convegni voluti fortemente dal nostro Vescovo. Lei apre questa serie di incontri con il quadro teologico della ministerialità del popolo di Dio. Un tema difficile nel titolo e vorremmo sapere quali sono i messaggi che vuole lanciare attraverso questa sua comunicazione. Tanto ringrazio dell'invito e dell'onore, essendo il primo ad aprire questa rassegna voluta fortemente dal vostro Vescovo, Monsignor Palletti. Ha ragione, può impaurire anche lo stesso linguaggio, ma è molto semplice, nel senso che ci si riferisce a quel coinvolgimento attivo da parte di tutti i battezzati che già il Concilio Vaticano II aveva auspicato, in virtù anche di riconoscimento di un dono particolare che lo Spirito Santo fa a qualcuno, ad ognuno, a tutti per l'edificazione del bene comune, della comunità, della Chiesa, in funzione poi missionare dell'evangelizzazione. Quindi è un tema che riprende il coinvolgimento, ripeto, di un popolo che deve diventare da oggetto a soggetto di evangelizzazione, protagonista. o coprotagonista. Ecco, una relazione che è stata organizzata dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose, di cui lei è docente a livello ligure, ma il Vescovo ha voluto che questa iniziativa interessasse un po' e coinvolgesse tutto il popolo cristiano della nostra città. Non bisogna spaventarsi allora di questo tema. No, anzi, direi che cercherò per quel che mi compete di farlo e renderlo in maniera anche interessante, direi entusiasmante anche, ma poi è bella la scelta sempre della vostra diocesi, del vostro Vescovo, che abbia voluto incarnare quello che poi sono i principi, e questo è il mio argomento, i principi grandi a livello teologico, poi nella realtà concreta. E quindi vedendoli anche nel vissuto della vostra realtà di chiesa locale, come per esempio l'ultimo incontro, se non sbaglio, addirittura poi di persone che hanno dettato anche una linea di spiritualità. Quindi questo direi che è un'occasione molto bella da non lasciarsi sfuggire. Darà anche qualche consiglio utile per aiutarci ad essere protagonisti in questo ministero? Io per quel che mi riguarda vorrei appunto suscitare interesse, ulteriore approfondimento, ringraziare anche in particolare istituti superiori di scienze religiose, con i colleghi anche che insegnano qui, coinvolgendo un po' la maggior parte del popolo di Dio, i laici, proprio in quello che deve essere anzitutto un livello di riflessione e quindi di presa di coscienza. E quindi poi anche mettersi in gioco e con l'aiuto di Dio dire cosa posso fare io, in cosa posso essere utile. Se avrò qualcosa in particolare da suggerire lo farò volentieri durante la conferenza.